Nuove disposizioni del Comune di Battipaglia sulla mensa scolastica e sulle modalità di pagamento. Palazzo di Città, oltre a ricordare che il pagamento del servizio deve essere effettuato dal genitore, ricorda che occorre dare formale comunicazione all'ufficio politiche scolastiche consegnando la copia dell'eseguito pagamento in cartaceo o via mail almeno quattro giorni prima dell'esaurimento completo del credito. Allo stesso tempo il Comune precisa che per pagamenti effettuati a mezzo bonifico o mediante bollettino di conto corrente postale, l'ufficio procederà al caricamento sulla piattaforma Telemoney solo a seguito di verifica positiva sul conto corrente acceso presso la tesoreria comunale e sui conti correnti postali di riferimento.